Questa nuova edizione di Passione in Poesia la vogliamo aprire con delle rime di Fotoiano Aurelio, che salutiamo e ringraziamo sempre per la sua disponibilità e soprattutto per l'affetto che nutre nei nostri confronti. E ci chiede questa porcaria, ed è proprio pandemia, malattetta a Giacurona, che è da tutti i contagiati, malattetta a Giacurona, che è da tutti i carcerati. Emo stare chiusi a casa, come fighi in cia capasa. Non potevo più toccare, non potevo più vasare. Anche chiuso, scuole e chiese, e non solo per un mese. Io mi sento molto impacire, sta mi sento molto morire. Non se faccio le funzioni, e non manco progessioni. Io mi ho perso le tradizioni. Quanta gente è bella sciata, secutando andulorata. Sta mi sento in cia l'uore, sta mi sento un dolore. E la santa ciuvatia, davecci sua pandemia. E non obbedico la progessione della tomba con il pannone. Io stacchiamo con il cuore. E mi ucciso il Signore. Maledetta a Giacurona, che è da tutti i contagiati. Maledetta a Giacurona, che è da tutti i carcerati. Maledetta a Giacurona, che è di quello di noi. E la volante è di qui. Grazie a tutti.